È stata un'indagine molto complessa e articolata in quanto ci siamo trovati di fronte a dei veri e propri professionisti del furto che avevano studiato il colpo nel minimo dettaglio. Quando sono entrati nel centro commerciale hanno evitato tutte le telecamere, se non qualcuna esterna dalle quali sarebbe stata irriconoscibile. Hanno evitato di far scatare gli allarmi in quanto conoscevano i punti in cui erano dislocati i vari sensori. Avevano fatto dei sopralluoghi accurati e noi da quelli siamo partiti. L'indagine è iniziata perché noi abbiamo iniziato ad analizzare decine di ore di immagini registrate dall'impianto di sorveglianza presente nel centro commerciale nei giorni precedenti al furto. Da qui abbiamo notato qualche movimento sospetto, abbiamo identificato qualche persona e da lì è iniziata l'attività tecnica che ci ha consentito di risalire agli udermi arrestati e al riciclatore del denaro. Nel periodo che li stavamo monitorando hanno organizzato diversi furti in varie parti dell'isola, furti analoghi a quello che hanno consumato qui a Doristano, ma anche in villa oltre che in centri commerciali. In un'occasione siamo riusciti a sventare un furto intervenendo prima a Kevnis portato a segno e arrestando tre persone prima che entrassero all'interno dell'abitazione ubicata in agro di Mogoro. Un'altra volta ancora abbiamo riscontrato la loro attività sui Sassari, in quanto avevano organizzato un furto nella zona industriale, in un centro commerciale di Sassari, tant'è che hanno portato sul posto dei borsoni, qualche giorno prima della data prevista per il furto, dei borsoni contenenti degli attrezzi, degli smerigli e tutto il necessario per portare a termine il furto. Furto che in quell'occasione non ci fu, parliamo del 31 maggio del 2018, in quanto in quello stesso contesto, la stessa sera, ci fu un tentativo di assalto al cavo della Mondialpol di Sassari. Lì il successivo intervento in forze di polizia e carabinieri ha fatto desistere il gruppo, la banda, dal mettere a segno questo ulteriore furto.